Ciao a tutti fringuelli, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a vedere come due ragazzotti di Leicester nel Regno Unito il 21 gennaio del 2020 mettono a segno un colpo in un negozio di biciclette portando a casa un rullo. La pandemia per noi cicliste è stata tremenda nel 2020 perché ci ha confinato in casa e anche in casa alcuni di noi non hanno potuto pedalare perché i rulli non erano presenti sul mercato. Sono tutti esauriti e in più la pandemia ha bloccato le fabbriche dove questi rulli venivano prodotti. Ma se tutto questo non bastasse, questi rulli sono andati letteralmente a ruba come dimostra questo video in cui si vede il vero e proprio ladro che adesso scende giù nel magazzino portarsi a casa un rullo mentre il suo complice distrae il proprietario chiedendo informazioni su delle biciclette. Come vedete se ne va praticamente indisturbato e a questo punto anche il complice lascia il locale. Stesso episodio si ripete 24 ore dopo in un altro negozio di biciclette questa volta Milton Keyes. Altri due ragazzi, non so se sono gli stessi, potrebbero anche essere entrano in un altro negozio per mettere a segno un altro colpo portando a casa un altro Turbo Trainer. La vita dei due ladri questa volta però si complica perché esattamente sulla porta viene bloccato dal gestore che si accorge della malefatta e blocca il ladro con il rullo sotto mano. Ecco però che intervengano due complici, non uno come si vedeva nella clip precedente per aiutare il ladro bloccato. Uno si carica letteralmente in spalla il rullo l'altro rimane sulla porta sorgnone per aspettare il complice mentre quello che inizialmente aveva preso dal negozio il rullo è andato credo a minacciare uno dei gestori del locale. Nonostante tutto l'intervento dei proprietari, i tre riescono a scappare con ben due rulli anche se per la verità un rullo viene poi immediatamente ritrovato dietro l'angolo. È il caso di dirlo quindi che i rulli sono andati veramente a ruba nel 2020. Vi do un consiglio, se dovete comprare un rullo e lo comprate su delle piattaforme online o su delle piattaforme di usato, fate sempre attenzione se il prezzo è troppo basso e le condizioni sono estremamente nuove, sono estremamente ottime, eccellenti del rullo o di una bicicletta prendetevi un po' di tempo, non vi fate ingollosire perché probabilmente avete fra le mani qualcosa di bollente, qualcosa di rubato. Fatemi sapere quindi se anche voi avete avuto occasione di intercettare annunci su delle piattaforme online o altrove di rulli o biciclette rubate. Bene ragazzi per oggi direi che è tutto, noi come sempre ci vediamo al prossimo video buonanamente alla prossima, ciao!